Ben ritrovati amici di YouTube, siamo in chiusura di questo calcio mercato, alla fine il Milan ha trovato il suo centravanti, tanto sperato, tanto sognato, tanto desiderato, ovvero Luca Jovic. Alla fine la terza o quarta scelta sarà lui il nuovo bomber del Milan, perché? Perché il Milan aveva provato per Taremi sino a ieri sera, poi nella notte si era lanciato su Pazzondaca, poi all'ora di pranzo c'è l'accordo con Leicester, prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non ci sono i tempi tecnici per fare l'operazione, lui è extracomunitario, farlo arrivare, insomma non si può fare. Pazzondaca alla fine andrà al Bornemouth, molto probabilmente stasera. Quindi il Milan ci prova con Rafa Mir, una pista che io sinceramente ho sempre poco cavalcato, chi mi ha seguito in tv, sui social, perché mi dicevano quelli vogliono l'obbligo di riscatto, ho detto ma 15 milioni non lo fa mai, prestito oneroso con diritto, qualcuno ha detto 5 milioni di prestito, tutte cose un po' campate per aria, infatti ad A5 si è scoperto che non si faceva colpo di genio però di fare i ramadani, va dato atto a fare i ramadani i meriti dell'operazione Jovic, perché? Perché lui alle 2 fa arrivare col frecciarossa a Milano, un'ora e mezza, le tre e mezza, arrivato a Hotel Me, suo quartiere generale in Piazza della Repubblica, insieme a Tomis Daberceg, suo braccio destro, Luca Jovic, ad aspettare, perché se salta l'operazione, se il Milan non trova una punta, last minute, l'ultima scelta, Jovic lo fa, Italia su Italia, l'operazione la fa rapidamente, la Fiorentina lo libera gratis, su un anno di contratto, il Milan rileva il contratto, un anno con opzione per altri due, poi deciderà il Milan se rinnovarlo o meno, 2 milioni e mezzo per 500 mila euro di bonus. Alla fine non si sbloccano i vari attaccanti, Orighi non convince, per Orighi c'erano due situazioni in Inghilterra, Nottingham e Barney, come vi avevo raccontato, alla fine Nottingham rompe gli indugi, quindi Orighi andrà al Nottingham, prestito con diritto di riscatto, i 4 milioni e mezzo verranno coperti tutti dal club inglese, quindi il Milan piazza Orighi e di fatto fa fuori i giocatori che erano stati presi l'anno scorso da Maldini e che non convincevano Furlani e Moncada. E questo è il discorso di Orighi, che saluta, in serata sarà a Nottingham, visite mediche, firme diritto, verrà completata l'operazione, sarà lui il nuovo attaccante del Nottingham, battuta e involata a Bashoi in uscita dal Fenerbahce. Ma torniamo al Milan, quindi che succede? Succede che il Milan, alla fine, stringe e va al traguardo per Jovic, che è un usato sicuro, che è un giocatore che già conosce il nostro campionato, che non ha fatto troppo bene, va detto a Firenze, ha fatto così così, però può essere un giocatore che magari trova l'ambiente giusto, si sblocca, insomma, alla fine non ti costa tanto, ti costa meno di Orighi, perché poi banalmente facendo un conto matematico, comunque lui è il secondo anno in Italia, può soffrire il decreto crescita, alla fine mal contati è la metà di Orighi. Forse può dare un contributo migliore, certo non è quell'attaccante che davvero ti può cambiare il volto, ma è un usato sicuro. Poi ha parlato con l'agente di Taremi, Pedro Pigno, e ha detto cose durissime, dicendo che il Milan ha sbagliato interlocutori, che per due mesi ha parlato con l'agente sbagliato. A questo punto mi sembra di rivedere il film di Samasic. Giustamente si era criticata l'Inter sulla vicenda, ma ha criticato il Milan. Bisogna fare attenzione con chi si parla, e soprattutto capire chi sono i reali detentori delle procure, e chi ha i mandati come intermediario, se poi ha forza sul giocatore, sul rappresentante del giocatore, nel convincere a fare determinate operazioni. O se invece poi alla fine non viene ascoltato, è successo così alla Pimenta con Samasic, è successo così ad Aria Barami, con appunto Taremi. Comunque, detto questo, tornando al tema di oggi, quindi Klasen all'Inter, ve l'ho raccontato stamattina, manca solo l'ufficialità, lui in sede ha firmato il contratto, guadagnerà 1.800.000 euro a stagione, si attende solo l'ufficialità, il Milan prende Jovic, quindi i due last minute li piazzano le milanesi. Il vero affare però della giornata, la vera protagonista è stata la Fiorentina, perché alla fine Ambra Bat va in Premier League. Ha avuto ragione Ambra Bat, voleva il Manchester United da un mese e mezzo, andrà, indovinate dove, al Manchester United. Guadagnerà 4 milioni netti a stagione, contratto 1 più 4, perché? Perché alla fine lui va in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma è un prestito oneroso che è un obbligo camuffato, perché è di prestito oneroso, dopo che aveva detto no in mattinata 5 milioni, lo United lo paga 10, quindi prestito per un anno 10 milioni, quindi se non lo riscatta, la Fiorentina ha preso 10 milioni per prestare a un giocatore un anno. È ovvio che verrà riscattato, a fine stagione, per 20 milioni, quindi totale 30, più 5 milioni eventuali di bonus legati a presenza e rendimento del giocatore, traguardi del Manchester United, qualificazione Champions, vittoria di alcuni trofei, tra cui un milione e mezzo dei bonus è legato alla vittoria della Premier League. Quindi Ambra Bat va in Premier. E chi prende la Fiorentina? La Fiorentina gli era stato proposto Demme, non convince ma resta in uscita da Napoli, occhio al mercato arabo, ma occhio soprattutto al mercato turco per Diego Demme, last minute, nei prossimi giorni. Di Demme vi ho detto, di Aslani, poteva andare via dall'Inter, ci aveva pensato il Sassuolo, l'Empoli, la Fiorentina, lui ha voluto restare, anche perché Sensi ha già avuto un problemino muscolare, non sarà tra i convocati in Inter Fiorentina di domenica, sta fermo ancora 10 giorni, vediamo che succede, sarebbe il 14esimo infortuno muscolare negli ultimi tre anni e mezzo, è chiaro che Sensi è un problema, è chiaro che Sensi è un incognito, quindi sono 7, ma Sensi è un punto di domanda, Aslani diventa il sesto, Klassen li passa davanti, ma Aslani ha scelto di restare. Quindi, era un obiettivo dell'Inter, ma è sfumato, Maxime Lopez va alla Fiorentina. 1 più 4, anche in questo caso a livello contrattuale, 1 milione di prestito, 9 di diritto di riscatto. Quindi, Ambra Bat va allo United, il grande colpo dello United, la Fiorentina prende Maxime Lopez, il Torino ha preso Duvanzapata, l'Atalanta non ha trovato ancora d'accordo per Riem, vediamo se lo trova last minute, ma le sensazioni sono molto negative. L'Empoli ha preso Simone Bastoni, per gli amanti del fantacalcio, giocatore di rendimento e affidabilità, che prendi a poco all'asta, buoni voti, qualche golletto, qualche assist, in prestito, con diritto di riscatto dallo Spezia. Il Genoa sta provando per Pellegri, perché c'è Zapata, c'è Sanabria, Pellegri dice, ma quando gioco io, e quindi, però c'è Torino-Genoa, e il Torino vorrebbe dare Pellegri a Genoa, e poi magari becca il gol domenica. Al di là di queste cose, però, i tempi sono molto stretti, siamo un po' last minute, siamo in volata di questa sessione di mercato, che di fatto non si chiude col botto della Juve, perché la Juve non ha fatto nuda in entrata, neanche l'ultimo giorno, è rimasta così com'è, ha detto no al Galatasaray, Mekenni, che ha scelto di restare, non si è evoluta la possibilità West End per Kostic, che a questo punto rimane, come terza scelta, poi vedremo cosa accadrà. La Juve lavorerà ai rinnovi, di alcuni giocatori, la spalmatura di alcuni giocatori, che hanno ingaggi pesanti su più anni, queste saranno le mosse del club bianco-nero. Roma e Lazio pure, il mercato l'avevano concluso, e Napoli ha formalizzato, quella che è un affare però già noto, che vi avevo raccontato martedì, ovvero Irving Lozano, per 15 milioni, va al PSV, dove in Napoli avrà anche il 15% sulla futura vendita, lui guadagnerà circa 3 milioni a stagione, guadagnava 4,6 in azzurro, ebbene, a questo punto vi chiedo, chi ha fatto il miglior mercato, poi vedrò le pagelle nei prossimi video, le mie pagelle ovviamente, chi ha fatto il miglior mercato, qual è stato il miglior colpo, chi si è mosso male e non va convinto, l'affare sfumato che può essere un rimpianto, ditemi la vostra, voglio i vostri pareri, i vostri commenti, lasciateli qui sotto il video, condividetelo, spammatelo ovunque, come al solito, insomma, più siamo meglio è, ci stiamo avvicinando ai 21 mila, che dire, grazie, 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 siamo partiti all'inizio del mercato quest'estate, eravamo neanche 3 mila, siamo arrivati a quasi 21 mila, veramente, grazie a voi per il vostro affetto e il vostro sostegno, a domani per le pagelle del mercato, e poi il fantacalcio, l'asta, i consigli, insomma, il pallinsesto non va mica in vacanza, restate sintonizzati, ciao a tutti.